Eccoci qui senza giacca, scusate l'assenza, scusate il ritardo, però ho smaltito adesso la sbornia di questa grande, grande, grandissima prestazione di questa squadra, l'unica squadra della capitale. Grande Roma-Spezia, risultato gioco meraviglioso, finalmente hanno timbrato il cartellino ai nostri attaccanti, una squadra fantastica, non abbiamo dato chance agli avversari. Vabbè dai che sto per culo, tranquilli, mi prendo solo i tre punti di questa partita, hanno segnato i due centrali, prestazione anonima, una cosa, Abram, in Italia non funziona che ogni dieci pari ti danno un gol, piastacazzo le porta una volta tanto, basta con i pari, basta con le traverse. Di questa partita mi prendo i tre punti, ho detto, e mi prendo i 45.830 spettatori che l'altra squadra della regione li fa in un campionato intero, un abbraccio grande a Tommaso, il tifoso colpito da infarto in curva, curato, a cui Mourinho ha promesso il giubbotto per il freddo. Io che soffro il freddo, Mourinho, svedi sto video, mandane uno pure a casa mia che va benissimo. E niente, senza giacca miei, domenica a Bergamo, anzi sabato alle 15 a Bergamo, partita durissima, e l'Atalanta non è l'Inter che si ferma, non c'è Dzeko e ci vedremo sabato pomeriggio, forse, tu mi hai fatto, ma fiducioso perché la Roma è la Roma, però mazza che botta che l'Atalanta. Dai, forza Roma!